Prevediamo opportuna una accelerazione delle misure che abbiamo introdotto nel decreto legge e manovra recentemente con quindi la possibilità del raggiungimento del pareggio di bilancio anticipatamente nel 2013 anziché nel 2014. Finanza pubblica vuol dire il pareggio di bilancio in Costituzione l'anticipo del pareggio al 2013 economia significa fondamentalmente tutto è libero tranne ciò che è vettato, la madre di tutte le liberalizzazioni più le altre cose che si possono fare per legge ordinaria e la riforma del lavoro. Naturalmente altri interventi che sono relativi alla velocizzazione delle infrastrutture, alla privatizzazione di alcuni settori e tutto quanto nei punti discorsi e concordati con le parti sociali sarà in aggiunta ma i quattro pilastri sono quelli che ho detto. Il bilancio ascoltino subito una informativa del Ministro dell'Economia Non si può più di vedere queste invenzioni e di vedere tante parole che ci vengono direttamente attribuite tra virgolette che non corrispondono né a ciò che abbiamo detto né al nostro pensiero. Quindi il pareggio di bilancio inizia... ...per le vostre vacanze. Grazie. Grazie.